L'obiettivo mal celato del governatore Frattura di far fallire Tele Molise, ben chiaro, perfino al presidente di Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro, sta avendo un effetto domino che non coinvolge solo le tv locali ma quelle dell'intero paese. Parliamo dei contributi per l'emittenza locale riferite al 2015 non ancora erogati. Eppure come ha fatto sapere il sottosegretario dello sviluppo economico Antonio Giacomelli rispondendo alle pressanti richieste di Eranti Corallo, lo scorso 6 dicembre il ministero aveva emanato i decreti per il riparto dei contributi ma tutto si è fermato a causa, parole dello stesso Giacomelli, dei ritardi nella definizione delle graduatorie regionali da parte del Corecom del Molise che in seguito alla pronuncia del TAR di Campobasso ha dovuto redigere una nuova graduatoria. Proprio così il Corecom Molise ha inceppato le procedure a causa del tentativo di escludere Tele Molise dal riparto dei fondi nazionali, uno dei tanti escamotaggi messi in atto dal governo regionale contro una tv che conta 90 dipendenti e che secondo il governatore dovrebbe chiudere. Un comportamento istituzionalmente scorretto che comunque sia ha finito per ritorcersi anche contro tutte le aziende del settore, molisane e non, provocandone in molti casi fallimenti a catena. Quindi la graduatoria stilata dal Corecom Molise per escludere Tele Molise, graduatoria impugnata dinanzi al TAR peraltro con successo dall'avvocato Massimo Romano, ha provocato un vero e proprio terremoto sul settore dell'emittenza locale nazionale. Infatti, come ha anche sottolineato il sottosegretario Giacomelli, proprio per rifare tutti i conteggi da capo, includendo a pieno titolo anche Tele Molise, anche la ripartizione dei fondi nazionali è stata bloccata con danni gravissimi per tutte le tv private italiane. Perché i contributi statali sono indispensabili per la sopravvivenza del settore e rappresentano una grossa boccata di ossigeno che consente alle tv locali di mantenere il proprio tetto occupazionale. Una situazione divenuta insostenibile per le aziende molisane del settore, della quale si sta occupando il consigliere nazionale dell'ordine dei giornalisti del Molise, Vincenzo Cimino. Intanto, il sindacato dei giornalisti, Lasso Stampa, ha chiesto un incontro urgente con il prefetto di Campobasso, al quale esporre nei dettagli la situazione drammatica in cui si trovano gli editori e con essi decine e decine di giornalisti, tecnici e amministrativi, che stanno perdendo il posto di lavoro. Eppure, sia le risorse destinate alle aziende per legge, in base al numero di occupati, sia quelle destinate alla comunicazione istituzionale, ancora per legge, esistono. Peccato che siano rimaste inutilizzate, bloccate. Insomma, per colpire Telemolise, Frattura sta provocando una vera e propria ecatombe regionale e nazionale.